Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca partendo da Mister Bianco nel Catanese e dai controlli effettuati dai Carabinieri in occasione delle festività natalizie. Sono scattate denunce e sanzioni. Nell'ambito dell'operazione Buon Natale Sicuro, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l'intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire sia nel centro cittadino che in periferia la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie, i numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontana Rossa, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e del XII Regimento Sicilia, hanno arrestato nel comune di Mister Bianco un 51enne del posto per evasione e denunciato in stato di libertà un 31enne catanese per violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro. In particolare i militari dell'arma, oltre ad aver svolto numerosi controlli su strada, all'esito dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro, hanno effettuato diversi controlli sia presso le abitazioni dei soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi sia nei confronti delle attività commerciali di quel territorio. Nel primo caso i Carabinieri, avuto accesso all'appartamento del 51enne, sottoposto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ne hanno accertato l'assenza in casa senza alcuna autorizzazione. Immediate quindi le ricerche che hanno permesso di rintracciare l'individuo non distante dal proprio domicilio, mentre si stava godendo una passeggiata all'aria aperta. Al riguardo l'autorità giudiziaria, convalidato l'arresto, ha disposto che l'uomo venisse nuovamente sottoposto ai domiciliari. Per quanto concerne invece le attività ispettive svolte con l'ausilio dei colleghi del NIL, i militari dell'arma hanno deferito il titolare di una carrozzeria attualmente detenuto in carcere per violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In qualità di datore di lavoro, lo stesso ha omesso di sottoporre a visita medica un lavoratore, con conseguente applicazione di un'ammenda di 4.900 euro. È stata poi acclarata anche la presenza inditta di un lavoratore in nero, circostanza che ha fatto scattare anche la maxi-sanzione per un importo di 2.500 euro. Infine è stata anche sospesa l'attività in questione, poiché è stato impiegato il 10% dei lavoratori presenti senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. A Catania invece i carabinieri hanno scoperto una sorta di supermarket della droga all'interno di uno stabile ubicato nel quartiere di Librino. Sono tre le persone tratte in arresto, si tratta di tre giovani pusher. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato in flagranza tre giovani catanesi rispettivamente di 19, 23 e 25 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Al riguardo i militari dell'arma, all'esito di un'attività info-investigativa volta al contrasto dello smercio di droga, hanno rivolto la loro attenzione verso una palazzina di Viale Nitta nel quartiere Librino, già in passato teatro di similari operazioni antidroga, riuscendo ad accertare il modus operandi degli spacciatori. Secondo una prassi ben consolidata, infatti, questi ultimi, anziché rimanere in strada e quindi esporsi ai possibili ride delle forze dell'ordine, si erano sistemati al primo piano di uno stabile in un alloggio disabitato, dove materialmente avveniva la compravendita dello stupefacente. I militari, pertanto, confondendosi tra gli acquirenti, sono riusciti ad accedere all'interno di quella casa, cogliendo di sorpresa i tre soggetti intenti a gestire la preparazione delle dosi e la vendita della droga attraverso una netta suddivisione degli incarichi. In particolare, il 19enne si occupava di aprire la porta ai clienti, non prima però di aver controllato, attraverso un monitor collegato a una microcamera era occultata in un interruttore della luce del pianerottolo, che non vi fossero sgradite sorprese da parte delle forze dell'ordine. A seguire, il 23enne aveva il compito di pesare e confezionare lo stupefacente, mentre il più anziano, il 25enne, gestiva la cassa. All'esito della perquisizione sono stati rinvenuti sul tavolo della cucina 22 grammi di cocaina, 18 di crack e 14 di marijuana, nonché un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle singole dosi e un foglio di block notice con annotate le somme di denaro frutto delle cessioni di droga. I tre sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per due di essi la sottoposizione ai domiciliari. Restiamo nel Catanese per parlare però di una tentata rapina in una ditta di trasporti, rapina sventata grazie all'intervento degli agenti della Polizia di Stato. Vediamo il servizio. Nella nottata del 22 dicembre scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone colte in concorso tra loro nella flagranza dei reati di tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate al contrasto dei reati di natura predatoria intensificate su disposizione del questore di Catania nel periodo delle festività natalizie, personale della sezione reati contro il patrimonio e la squadra antirapina della locale squadra mobile ha intercettato nel territorio di Belpasso un veicolo provento di furto, con a bordo tre soggetti vestiti con abiti scuri e il volto coperto da cappelli di lana e scaldacollo. Il conseguente servizio di pedinamento dell'autovettura sospetta ha consentito di appurare che i tre uomini si stavano recando presso un'azienda di logistica e trasporti per compiere una rapina. Infatti, raggiunto il cancello d'ingresso, i tre hanno azionato il clacson con il chiaro intento di farsi aprire per accedere all'interno al fine di realizzare il progetto delittuoso. Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di rilevare che il conducente del veicolo era armato di una pistola semiautomatica calibro 6,35 con quattro cartucce, il passeggero anteriore invece di un revolver calibro 38 con sei cartucce e il passeggero posteriore di un taglierino. Peraltro, all'interno della macchina, i tre fermati detenevano fascette in plastica e scotch, materiale con il quale avrebbero dovuto immobilizzare i dipendenti della ditta durante la materiale esecuzione della condotta criminale. Il successivo atto di ricerca presso le abitazioni dei tre autori del reato ha portato al rinvenimento e al sequestro, nel domicilio di uno dei malviventi, ubicato ad Acicatena, di un fucile automatico da caccia con relativo munizionamento, risultato provento di furto. In ragione della condotta criminosa posta in essere e della detenzione illegale di armi comuni da sparo, i tre soggetti sono stati tratti in arresto e dopo le formalità di rito, d'intesa con il PM di turno, tradotti presso il carcere di Catania a Piazza Lanza per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, che lo scorso 26 dicembre ha poi convalidato l'arresto. A Ragusa, invece, la polizia ha tratto in arresto l'autore di una rapina ai danni di un'anziana avvenuta in pieno giorno e nel centro storico della città. Si tratta di un cittadino straniero. Dal mese di novembre di quest'anno, il personale della squadra mobile di Ragusa ha condotto serrate indagini di polizia giudiziaria, volte all'identificazione dell'autore di scippi, rapine al passo e furti aggravati commessi nella zona del centro storico di Ragusa. Atti criminali culminati in pieno giorno, la mattina dello scorso 17 dicembre, con la rapina aggravata in danno di una 79enne di Ragusa, la quale, successivamente trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II con un'ambulanza del 118, ha riportato delle lesioni. Le indagini svolte dalla squadra mobile di Ragusa hanno portato lo scorso 23 dicembre all'emissione di un decreto di fermo a carico di un cittadino gambiano titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari e senza fissa dimora. L'attività di indagine, supportata da servizi di appostamento e pedinamento, dalla disamina di apparati di videosorveglianza installati nella zona di interesse, ha consentito di immortalare le effigie del soggetto autore della rapina aggravata. L'extracomunitario, che indossava un giubbotto double FAS al fine di eludere le investigazioni, subito dopo la commissione dell'evento delittuoso, ha provveduto a cambiare il lato esterno del capo di abbigliamento con quello interno di diverso colore, particolare però che non è sfuggito agli inquirenti. A tradire il gambiano è stato, oltre all'abbigliamento indossato durante la perpetrazione dell'evento delittuoso, anche il fatto che dopo qualche ora dalla rapina si è recato in un esercizio compro oro del centro di Ragusa per porre in vendita la collana dell'anziana. Nella circostanza si è registrato esibendo il proprio documento di identità. Gli incontrovertibili elementi probatori acquisiti, con l'ulteriore visione delle immagini installate al compro oro e la comparazione del volto acquisito con quelle delle immagini degli extracomunitari fotosegnalati, hanno permesso di identificare senza ombra di dubbio l'autore dei delitti. Il personale in servizio è riuscito a recuperare il monile sottratto alla vittima restituendolo alla stessa. Il giudice, per le indagini preliminari, a conferma dell'imponente quadro indiziario raccolto dagli investigatori e dalla locale procura della Repubblica, ha poi convalidato il fermo disponendo la misura cautelare in carcere nei confronti del cittadino gambiano. Torniamo a Catania per parlare però di eventi, ovvero quelli in programma in questi ultimi giorni del 2020 fino all'arrivo del Capodanno, eventi o meglio concerti con grandi artisti che si svolgeranno in Piazza Duomo a Catania. Ma ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Dal 28 al 30 dicembre la Piazza Duomo di Catania si appresta a ospitare quattro giorni di musica, spettacoli e intrattenimento dal sapore quasi interamente siciliano, eventi che fanno da prologo all'arrivo del nuovo anno ad ingresso libero. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco, un ricco cartellone di artisti che rende omaggio alla sicilianità, una scelta divisa dalla direzione artistica di Lello Analfino, ad eccezione dei campani The Colors, vincitori nel 2015 della 14esima edizione del Talden Show Amici di Maria De Filippi. Un conto alla rovescia in attesa dei festeggiamenti del Capodanno 2022 che comincia proprio mercoledì 28 dicembre con la performance proprio di Lello Analfino. Il 29 dicembre Curtighi Festival aprirà la seconda serata musicale con il ritorno del siciliano Mario Venuti, polistrumentista, cantautore etneo. La cornice barocca di Piazza Duomo ospiterà nella terza serata del festival, venerdì 30 dicembre, i The Colors, guidati dal loro frontman Stash. Chiuderanno la serata il gran finale la cantante catanese Roberta Finocchiaro, promessa della musica internazionale, e il quartetto collettivo, nuova band emergente che ha già creato venti emozionanti inediti. Prima del gran finale della notte di San Silvestro con l'attesissima performance di Giussi Ferreri, condurrà Ruggero Sardo. Ma sentiamo gli auguri per il nuovo anno che verrà di alcuni protagonisti. Tutti ci auguriamo che finisca la guerra in Ucraina, che è veramente una nota drammatica e triste che francamente mi rende... pensare tutte le sofferenze degli ucraini è una cosa che mi spezza il cuore, per cui mi auguro veramente che finisca questo. E poi di conseguenza anche tutte le... a cascata anche tutte le conseguenze economiche che si riflettono anche sulle fasce della popolazione più in difficoltà, quindi cari energie, tutte queste cose qua. E sono insomma tutte le sofferenze che sono sotto i nostri occhi. Quindi mi auguro che almeno queste due cose, il Covid, possiamo... non ce lo siamo lasciati alle spalle del tutto, però insomma lo abbiamo addomesticato. Ecco, io spero invece veramente che finisca la guerra. Auguro un anno pieno di musica e di cose belle e di meno pensieri a tutti. Naturalmente meno violenza sulle donne, sui bambini e più attenzione al diverso. Ok? Io mi auguro che la gente cambi. Ah, un'altra cosa mi auguro. che facciano meno botti durante il Capodanno, così i cani e gli animali non soffrono. Cioè io non mi riferisco alle bombette dei bambini, mi riferisco alle molotov che lanciano dai balconi, che se bombe praticamente uccidono anche tanti animali, tanti uccellini. L'augurio più importante, sembrerà banale, ma è di stare bene, di stare bene fisicamente, di superare qualunque difficoltà che purtroppo la vita ci riserva. E quindi di vivere momenti di serenità, di spensieratezza e di ascoltare buona musica. Sono veramente felice di festeggiare la fine di questo anno pazzesco, di concerti, di tour, nella nostra amata Sicilia. Non c'era posto migliore. Infatti il 30 di dicembre suoneremo in piazza del Duomo a Catania, vi aspettiamo numerosi, per fare questa festa che, mi giuro, non c'era posto migliore, perché quest'anno la Sicilia è stata per noi veramente una seconda casa. E sono emozionato, sono veramente felice di festeggiarlo insieme a tutti voi. Ci vediamo lì. Con tantissima gioia per dirvi che avremo l'occasione di trascorrere la notte di Capodanno insieme dove? A Catania in piazza Duomo. E di questo ringrazio il comune di Catania. Vi aspetto dunque numerosi con la mia band in piazza Duomo a Catania. il 31 dicembre. Ciao! È tutto. Possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia.